Studiavano, lavoravano e quindi loro per passione dedicavano soltanto le ore serali per poter giocare a pallone. Veramente queste donne per giocare a pallone ne hanno passate tante, quindi è giusto dare il riconoscimento, il merito, il premio per tutto quello che hanno fatto nel corso di tanti anni. Giovanni Di Salvo con il suo azzurre protagonista assieme al calcio femminile del salotto letterario di Zenzero Fest nel chiostro del teatro Bicchieraia ad Arezzo. Con il susseguirsi degli anni spesso questi atleti che tante gioie hanno lottato, sudato, regalato soddisfazioni con la maglia della nazionale hanno stato un attimino messe da parte. E allora è un percorso di ricordi, un percorso di ricordi che parte dal 68 arriva a fine giorni nostri attraverso il racconto e le interviste di tante protagoniste che hanno vissuto tutte queste esperienze, che hanno aperto il loro album dei ricordi per condividerle con chi per l'appunto le scopre adesso per la prima volta. E sono sole che si intrecciano anche con diritti delle donne, adesso è entrato il professionismo ma loro sono stati per tanti anni dilettanti, e la parola comune a tutte quante è la passione. Loro giocavano per passione, giocavano per passione e hanno onorato la maglia azzurra. Una bella occasione per valorizzare uno sport che proprio ad Arezzo sta vivendo un momento magico, presenti all'appuntamento anche le calciatrici a Maranto. È un bellissimo campionato e sono sicuro che l'Arezzo potrà fare molto molto bene, visto che è anche attiva nel calciomercato, tante giocatrici nuove, quindi sono sicuro che il presidente all'estero è una squadra molto competitiva.